Siamo qui al Teatro Manzoni per la presentazione della stagione 2023-2024 con Paolo Triestino e Giulio Corso che saranno protagonisti dello spettacolo d'apertura della stagione di prosa, testimone d'accusa di Agata Cristi. Ci potete raccontare qualcosa in più sui vostri personaggi? Paolo, è una drame di una commedia, dramma poliziesca giudiziaria di Agata Cristi, considerato il suo copolavoro ed è una scrittura incredibile che tiene incollato l'espettatore per due ore e quaranta e con una successione di corpi di scena uno più sorprendente dell'altro. Tutto questo non sarebbe possibile senza davvero una compagnia meravigliosa, a cominciare da Vanessa Gravina, da Giulio Corso, anche Paolo Triestino di Nicolò Rossi e Bravini e altri splendidi attori, la regia di Giappone di Giesos. Dal 17 al 29 ottobre c'è una chicca davvero straordinaria, originarissima che magari... Ovvero il pubblico, il nostro pubblico, cioè sei dei nostri spettatori saranno chiamati a diventare proprio giurati di questo processo e quindi verranno chiamati insieme a noi sul palco a occupare i posti della giuria e quindi c'è la possibilità di immergersi nello spettacolo non solo da fuori ma anche un po' da dentro, cioè spiare le cose un po' più da vicino, secondo me è un'esperienza fortissima. E poi questo è un testo che Billy Wilder ha fatto film. Perché l'ha fatto? Perché evidentemente mi ha riconosciuto alla grandezza. E gli attori che interpretavano Sir Wilfried Roberts e Leonard Ball erano... Tyron Power. Erano Tyron Power e Charles Lotton. Quindi voglio dire, se l'hanno fatto Tyron Power e Charles Lotton, volete veramente perdere di giro forse il palco del signore che fanno questo spettacolo? Direi proprio di... E Marlene Dietrich che interpretava il ruolo di Vanessa Caravino. Vanessa in questa cosa è veramente straordinaria. Io dico che vado a teatro da sempre perché sono innamorato degli attori e Vanessa in questo spettacolo fa una prova che è veramente degna di nota. Quindi io invito tutti a farsi un regalo per la prevedere Vanessa in questo spettacolo. Allora verremo dal 17 di ottobre al Manzoni a vedere il posto spettacolo Testimolta. Mi aspettiamo. Mi aspettiamo. Grazie.